Ciao, ciao, ciao a tutti! Allora, vorrei fare un po' di chiarezza su quello che è il prefermento. Cosa sono i prefermenti? Sentiamo parlare di piga, di pulish, di sponge, di pasta di riporto, di pat fermenté... Ma che cosa sono queste cose? Dunque, andiamoci con ordine. Bene, nell'antichità non esisteva il lievito di birra. La farina e l'acqua venivano mescolate e si aspettava che si sviluppassero dei microrganismi, che loro manco sapevano che erano microrganismi, e che questo impasto fermentasse. Dopodiché, quando l'impasto era fermentato, si faceva il pane. Prima di fare quel pane, però, veniva tolto un piccolo pezzo di impasto e veniva utilizzato per fare l'impasto del giorno successivo. Questo è il concetto alla base della pasta di riporto. Che cosa succedeva in tutto questo? Succedeva che i microrganismi presenti nell'impasto fermentavano e quindi si avevano degli aromi, delle fragranze particolari dovute allo sviluppo di quelli che si chiamano acidi organici. Inoltre, questa pasta fermentata faceva sì che l'impasto finale avesse anche una consistenza particolare, per cui morbida e alveolata dentro, croccante fuori, e appunto molto gustosa. Dopo l'avvento del lievito di birra all'inizio del 1900, abbiamo cominciato a utilizzare tutti il lievito di birra, il che sta anche bene, perché il lievito di birra non fa altro che far fermentare comunque un impasto. Però siamo stati tutti quanti risucchiati dal vortice del facciamolo lievitare in due ore, facciamolo lievitare in un'ora, ci mettiamo 25 grammi di lievito di birra fresco e mezzo chilo di impasto, così in mezz'ora, in un'ora, in due ore abbiamo il nostro bell'impasto pronto. In realtà non è così, come sappiamo, perché l'impasto non deve solo lievitare, ma deve anche maturare. Quindi, dopo l'avvento del lievito di birra, i panificatori, i maestri panificatori, hanno cominciato a pensare che probabilmente il vecchio metodo della pasta di riporto, pasta fermentata, era il migliore, perché dava appunto dei gusti molto intensi e piacevoli. Quindi, che cosa è successo? che si è scatenata la gara a chi faceva il prefermento migliore. In realtà non era una vera gara. I prefermenti sono stati creati in diversi paesi europei. Quindi, la biga, per esempio, è stata creata in Italia. Il Polish è stato creato in Polonia, in inglese si dovrebbe dire Polish, ma Polish significa polacco. Per distinguerlo dalla parola polacco si usa la parola Polish. Quindi usiamo la parola Polish, che è quella riconosciuta, non Polish, che vuol dire polacco. Il Polish, però, è stato poi preso dalla Francia, per cui in Francia viene utilizzato tantissimo pure. Poi abbiamo la sponge, che significa spugna, che invece è stata inventata in Inghilterra. Quindi, fondamentalmente, diciamo che i prefermenti si somigliano tutti. Ma fino a che punto si somigliano? Si somigliano molto più di quello che pensate. La biga è un prefermento a base di una quantità di farina e mezza, circa, quantità di acqua, più una piccola quantità di lievito di birra. L'impasto è abbastanza secco. Ci sono diversi tipi di biga. Quella che conosciamo noi con gli sfilacci è la biga giorilli, ma si può anche impastare la biga. Non è necessario che sia lasciata a sfilacci. Quello è un modo di fare la biga. Il poolish, invece, è fatto da una parte di farina e una parte di acqua, più un piccolo quantitativo di lievito di birra, quindi è piuttosto liquida, sembra una pastella. La sponge è, invece, una via di mezzo. Cioè, c'è il 60% di acqua rispetto alla farina. Quindi, per esempio, 100 grammi di farina e 60 grammi di acqua, più sempre una piccola quantità di lievito di birra. Io, quando sto a dirvi quanto lievito di birra bisogna mettere in questi prefermenti, se volete me lo chiedete nei commenti, e io sarò lieto di rispondervi. La quantità varia leggermente, perché un impasto più è liquido, meno lievito di birra avrà bisogno, perché l'acqua aiuta il lievito di birra a moltiplicarsi più velocemente. Qual è la differenza reale tra i vari prefermenti? La differenza, in realtà, non esiste. C'è chi dice che la biga sa più di acido lattico, c'è chi dice che il pulish sa più di acido acetico, c'è chi dice il contrario, c'è chi dice che la sponge non è nient'altro che un'imitazione della biga. In realtà, non è nient'altro che un mimare quello che succedeva nei tempi antichi quando si riportava la pasta da pane a pane. Quindi non c'è una reale differenza. Quello che accomuna i prefermenti è il fatto che il sapore rispetto ad un impasto senza prefermenti è sicuramente maggiore, c'è più fragranza e che la consistenza interna del panificato sarà più soffice proprio perché sono avvenute delle reazioni chimiche nei prefermenti che poi daranno al prodotto finale questa consistenza. Quello che vi consiglio io dalla mia esperienza e da tutto ciò che ho letto in letteratura scientifica è usate il prefermento che più vi fa comodo. Se avete un'impastatrice potete utilizzare una biga, potete fare una biga. La biga è dura, è consistente, quindi per scioglierla avrete bisogno di un aiuto meccanico, un'impastatrice, una planetaria. Non utilizzate il mini-peamer perché se andate a distruggere la struttura della biga avrete creato un polish. Tanto vale che facevate un polish. Nella biga non si sviluppa molto glutine, ma un minimo si sviluppa. Utilizzare il mini-peamer è assolutamente contrario a quello che i grandi maestri insegnano. La biga deve essere impastata, non distrutta col mini-peamer. Se invece non avete un'impastatrice e quindi fate tutto a mano, utilizzate un polish che essendo molto più liquido rispetto alla biga sarà facilissimo da mescolare all'impasto finale. Se invece volete utilizzare l'alternativa anglofila utilizzate la sponge. Non cambia assolutamente niente. Se volete invece utilizzare il metodo reale, antico e pieno di sapori fate la pasta di riporto o la pasta fermentata o pâte fermentée detta in francese che non è altro che fare un impasto 100 grammi di farina 60, 65, 70 grammi di acqua con un pizzico di lievito la lasciate un po' a temperatura ambiente un'oretta, due orette e poi la mettete in frigo per 3-4 giorni. Utilizzerete quella pasta per fare il vostro pane successivo e vedrete che avete dei risultati assolutamente sorprendenti. io spero di essere stato utile in qualche modo se vi è piaciuto mettete un mi piace iscrivetevi al canale schiacciate la campanellina fate quello che volete e commentate chiedetemi quello che volete io sarò lieto qua di rispondere io rispondo a tutti per cui ci vediamo alla prossima e ciao!